Ecco un chiaro segnale di comunicazione che il tuo cane ti dà che stai totalmente ignorando. Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio, sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il proprio amico a quattro zampe. Sono sicuro che ti sarà capitato di vedere il tuo cane in determinati momenti della giornata quando interagite sedersi dandoti le spalle e immagino che tu l'abbia interpretato come un segnale del dirti non mi interessa quello che stai facendo, sono offeso con te o andandogli ad attribuire significati più o meno simili alla sfera della comunicazione umana. Devi sapere che questo tipo di interpretazione che hai dato a questo segnale è prettamente umano. Quello che il tuo cane ti sta cercando di dire in quel momento è un chiaro segnale calmante. Ti sta chiedendo calma? Sì, potrebbe chiedertela per diversi motivi magari perché lo stai sgridando, magari perché gli stai mettendo troppa pressione con il tuo corpo magari perché quella situazione lo sta stressando. Ti aspetto nei commenti per sapere se hai mai visto questo tipo di comunicazione essere messa in atto anche dal tuo cane.